Siamo qui con Daniele Saletti, presidente amministratore legato di Redoro, azienda familiare storica nel settore dell'olio. Fa un po' specie che nella grande fiera del vino è presente anche una sezione dedicata all'olio. Sì, è da molti anni che Vinitaly predilige anche questa piccola nicchia di mercato che è l'olio d'oliva e che va di pari passo veramente con le grandi scelte veramente economiche e strutturali. Noi vediamo che l'olio deve diventare come è stato il vino negli ultimi vent'anni, quindi una selezione non solo di extravergine ma bensì di denominazione d'origine, di ricercatezza, di qualità, veramente allo stato puro. Noi partiamo dal presupposto di avere il 100% italiano, ma nel 100% italiano abbiamo il biologico, abbiamo il DOP, l'IGP. L'Italia ha un bacino di utenza bellissimo, ogni regione ha un suo olio, una sua caratteristica e qui a Vinitaly c'è un'esposizione di re internazionale di oli. Ecco, e poi in Italia grandi e piccoli stanno facendo un po' il sistema. Sì, l'olio unisce e non divide. È una delle bellezze che abbiamo. Veramente non ci si fa concorrenza ma si fa squadra. Siamo talmente piccoli in un contesto mondiale che essendo così piccoli dobbiamo veramente fare sinergia tra l'industria, l'agricoltura e perché no la trasformazione. Quindi dobbiamo essere coesi, italiani e patriotici per quello che siamo e tra l'altro per una qualità che è invidiabile in tutto il mondo. Parliamo della produzione italiana, ci sono stati due anni pesanti di siccità. Com'è andata quest'anno? Quest'anno Dio ci ha voluto bene, veramente direi è venuta fuori un'annata discreta e si presume che ci sarà una buona annata anche per la prossima perché le acque copiose che sono scese hanno fatto sì di veramente una buona vegetazione delle piante e quindi avremo sicuramente una campagna meritevole come l'Italia ha sempre avuto negli anni. Quali sono i vostri mercati principali all'estero? Il Giappone per eccellenza, l'America e noi per l'America veramente, l'americano è schietto, vuole l'olio vero e quindi sempre più non vuole mezze misure ma vuole sapere della famiglia, vuole sapere dell'azienda, vuole sapere del brand ambassador, vuole dire io mi fido di Red Oro e quindi scelgo la tua bottiglia perché so cosa c'è dentro e poi l'italianità è fondamentale, non si può dire siamo italiani perché abbiamo il tricolore ma dobbiamo avere tracciabilità, certificazione e filiera di sistema, questo è fondamentale per non prendere in giro nessuno ma per essere trasparenti con quello che il mercato vuole. I Giapponi insegnano, il Giappone veramente sono la nicchia della nicchia ma il mercato americano soprattutto del nord è esigentissimo.